Furti rapine ma anche atti vandalici, Arezzo è il terzo posto nella classifica delle province toscane in cui gli imprenditori si sentono più esposti al pericolo di fenomeni criminosi e quanto emerge dall'indagine commissionata da ConfCommercio Toscana Format Research per monitorare il sentiment delle imprese del terziario sulla questione sicurezza dati che sono stati diffusi durante la giornata Legalità Ci Piace ideata da ConfCommercio In generale in tutta la regione è allerta alta contro la criminalità Ad Arezzo il 76% degli intervistati dice di sentirsi molto o abbastanza esposto più preoccupati dagli aretini per mezzo punto percentuale, Livornesi e Fiorentini Va meglio invece nella percezione di sicurezza del territorio In provincia di Arezzo solo il 16,3% degli operatori di commercio, turismo e servizi si sente poco o nulla sicuro a fronte di una media regionale del 30,1%, meglio di Arezzo solo Siena In provincia di Prato invece il 55% degli intervistati si dichiara poco o per nulla sicuro Tra le cause che alimentano il problema della criminalità, secondo gli operatori toscani del terziario ci sono in particolare la mancanza di certezza della pena, la situazione economica difficile, la scarsa presenza delle forze dell'ordine Proprio su quest'ultimo tema, ovviamente a livello di percezione degli imprenditori più di uno su due si dichiara insoddisfatto ritenendo inadeguato o insufficiente il presidio delle forze dell'ordine sul territorio M-Iruttorio 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 Grazie.